Ciao ragazzi, oggi volevo farvi vedere come è cambiato il cap del Magic Boost su Ion dopo la 5.0 E prima il cap era 2009 Quindi adesso vi faccio vedere, facciamo la prova con questo dummy Sempre su Ion Power Book Andiamo a vedere qual è la sua Magic Suppression Andiamo a cercare, dummy Vedete che questo qua divenga a 1.150 di Magic Suppression Quindi, calcolatrice, 1.150 più 2.900 Scanso di equivoci, 4.050 di Magic Boost Andiamo a vedere, io attualmente ho 4.221 Senza bonus né niente Quindi è oltre il cap del Magic Boost Con Facing Wind gli faccio 4.304 Ne controlliamo, 4.304 Io aumento la Magic Boost, quindi 4.389 Gli faccio 4.436 Gli faccio rivedere 4.436 senza il bonus 4.304 Questo significa che evidentemente è qualcosa che è cambiato nel cap del Magic Boost E con varie prove E il risultato che adesso il cap è 3.200 Questo significa anche che Questo ovviamente funziona su tutti i mob Quindi anche quelli vecchi di boss E significa anche più danni sui boss vecchi Quindi è per questo che Hyperion viene shottato praticamente E invece non posso darvi informazioni sul critico Perché per me, a parte che non sono un fisico Non li conosco bene E poi è più complicato verificare il cap di un critico Perché funziona sulle percentuali Non sul danno E uno può anche essere fortunato Che gli entrano 10 crit su una percentuale del 10% E a culo E quindi è difficile da verificare Bisognerebbe fare dei test su più di mille tentativi Cioè tu ti metti là a fare auto attack per mille volte E vedi con quel critico quante critici hai fatto Però è una cosa troppo lunga e complicata E poi non ho un fisico E mi interessa relativamente Però fate caso Che se prima Makarna vi dicevano Che il cap del critico era Non mi ricordo Era tot Sicuramente adesso sarà di più probabilmente Adesso invece volevo farvi vedere I cap del magic boost Di alcuni boss più importanti nuovi Quindi volevo farvi vedere Per prima Berson Che è un world boss livello 80 Che ci stiamo farmando con Surfers e Company E livello 80 per l'appunto E andiamo sulla sezione Boss livello 76-80 Berson Quindi Berson ha Di magic suppression 2085 Quindi 2085 1085 più 3002 5285 5285 Quindi quasi 5300 magic boost E credo che nessuno ci arrivi Senza un chanter Almeno io credo Ehm Quindi ovviamente Bisognerebbe Tralasciare ormai Da queste patch in poi Quelle che ci saranno in futuro Quindi 5.3 in poi Tralasciare il progetto magic boost Crit spell Con le Con le knowledge Secondo me Perché tanto Ci servirà sempre più magic boost Quindi come al solito I magici devono puntare Tutto su magic boost E un po' di Ma Questo è ragazzi Perché se uno vuole Farsi Berson E vuole Avere il massimo Del danno Deve arrivare a 5300 Di magic boost E senza Full magic boost Non lo so Se ci si arriva Sicuramente Non full knowledge Perché come ho già detto Nell'altro video Non ne vale la pena E potete Controllare meglio Dal video di Siwo Che vi linkerò sotto E là lo spiega Molto meglio di me Ok Quindi Berson È così Poi andiamo a vedere Invece I boss Più importanti Della garden Quindi i tre I pitoni Waterloo Yotun E Olsingai Quindi Python I tre pitoni Hanno tutti e tre La stessa Magic suppression Che è 1512 Quindi 1512 Più 3002 Fa 4712 Che comunque È fattibile Da ottenere Poi Fallen Wateryotun Che è questo Ha di magic suppression 1427 1427 Quindi 1427 Più 3200 4627 Che è easy Da prendere Poi Olsing Olsingai Dovrebbe essere questo A 1347 Quindi 1347 Più 3002 4547 4547 Quindi per chi vuole Farsi i primi Soltanto i primi Due boss È abbastanza Easy Da ottenere Comunque Questo capo Di magic boost E Ovviamente Considerate Che appunto Anche su Hyperion E sugli altri Boss Dovete avere 300 di magic boost In più Di quello Che vi dicevano Prima Quindi mi Sembra che Su Hyperion Era 4100 Adesso Non mi Ricordo Quindi sarà 4300 Adesso Spero che il video Vi sia piaciuto Ragazzi E ci sentiamo La prossima volta Per nuovi aggiornamenti Bye bye Ciao